Strage di cani a Monterodunia, a distanza di poco più di dieci giorni dalla barbara uccisione di Ettore, freddato con un colpo di fucile al cuore, altri due animali domestici questa mattina sono stati vittima della ferocia dell'uomo. De Viussel, con all'interno dei vetri frantumati gettati all'interno di un giardino, non hanno lasciato scampo a Nerina, mentre un altro cane sarebbe in fin di vita, già sottoposto alle cure mediche di un veterinario, sta lottando tra la vita e la morte. Ad accorgersi di quanto è accaduto, la proprietaria che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri forestali, che hanno posto sotto sequestro e bocconi, sui quali nelle prossime ore saranno effettuate ulteriori analisi. Ascoltate anche alcuni testimoni per tentare di individuare i responsabili del grave gesto che ha sconvolto l'intera cittadinanza. Gli interrogativi sono tanti, tra questi anche quello più inquietante, ossia se dietro l'uccisione di questi animali ci sia la stessa mano. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma se ne saprà di più, dopo gli accertamenti che saranno effettuati dall'Istituto Zoo Profilattico di Sernia. Intanto la proprietaria dei due animali, su Facebook, si è lasciata andare ad un amaro sfogo. Hai ferito il mio cuore, ha detto al responsabile del vileatto. Rivolgendosi poi alla povera Nerina, ha utilizzato parole d'affetto. Eri il mio tutto, quel tutto brutalmente ucciso con dei bocconi riempiti di vetro.